Ciao ragazzi, eccoci qua finalmente, noi un po' di giorni fa lanciamo questa iniziativa Una mano per il Gargano, dove chiedevamo ai nostri amici del mondo dello spettacolo, del mondo dello sport, di inviarci qualche cimedio per far partire un'asta benefica e quindi ci siamo oggi, no? Sì, sì, un'asta benefica che diciamo a che serve, però E dillo! Un'asta benefica il cui ricavato sarà devoluto completamente ad una scuola di San Marco Illami, uno dei paesi più colpiti della Luvina, per ripristinare l'agibilità di questa scuola Signore, vi faccio vedere che è arrivato Allora, stavo a mille gozzi, noi che vi possiamo far vedere tutti Io ho avuto la maglia di Totti, presco questi 38 anni di record, la maglia di Cerci da Madrid La maglia di Montolivo, il capitano del leader, eh ma ci ha mandato delle cose, Zalone, Negramaro, Rudy Zervi, insomma Matri, matri, mamma di Ranocchia dell'Indio Andate su www.casco di Ramazzotti, Eros Andate su www.charitystars.com perché su quel sito partirà l'asta benefica Oggi, oggi, per due settimane signore, ognuno avrà disposizione su questo tempo per fare la sua offerta Mi raccomando, è che dovete fare, dovete condividere Condividete il più possibile, fate girare questo video, chiedete i soldi a chi c'ha i soldi Oh, sì, in modo che arrivi proprio come dici tu, a chi c'ha i soldi Perché più si offre per queste maglie, più facciamo del bene a quella scuola di San Marco di Lamis San Domenico Savio, ricordiamo il nome della scuola Sì, San Domenico Savio Beh, mi raccomando, signori Siamo stati lucisi, forse per la seconda volta nella vostra vita Buon asta a tutti, via, con la mossa Dai, che stai nicimella Ma ma quante cose stanno se andate là? www.charitystars.com Quando tu?